e questo è ciò che vide tre individui grandi e grossi stavano seduti attorno a un gran fuoco di ceppi di faggio stavano arrostendo del montone su lunghi spiedi di legno e si leccavano il sugo dalle dita c'era nell'aria un profumino appetitoso e c'era anche un barilotto di buona bevanda a portata di mano ed essi la sorseggiavano in grandi boccali ma erano troll senza possibilità d'errore perfino bilbo nonostante la sua vita ritirata poteva rendersene conto dalle loro grosse facce volgari dalla loro taglia dalla forma delle loro gambe per non parlare del loro linguaggio che non era per niente salottiero proprio per niente montone ieri montone oggi e che mi caschi un occhio in mano se non ci avremo montone pure domani disse un troll neanche un pezzettuccio di carne d'uomo ci abbiamo avuto questi ultimi tempi disse il secondo che diavolo gli è venuto in mente a guglielmo di portarci da queste parti io proprio non lo capisco e sta pure finendo la roba da bere aggiunse scuotendo il gomito di guglielmo che stava bevendo un sorso dal suo boccale a guglielmo andò tutto di traverso e chiudi il becco disse appena poté che ti credi che la gente passa di qua solo per farsi mangiare da te berto voi due da soli vi siete ingozzati un paese e mezzo da quando siamo scesi dalle montagne e ancora non ti basta eppure ci sono stati tempi in cui mi avresti detto grazie come per un bel boccone di montone succulento come questo con un morso staccò un bel pezzo di carne da una zampa della pecora che stava rosolando e si pulì la bocca sulla manica sì temo proprio che i troll si comportino così anche quelli che hanno solo una testa per uno dopo aver udito tutto questo bilbo avrebbe dovuto fare qualcosa all'istante o sarebbe dovuto tornarsene silenziosamente indietro per avvertire i suoi amici che a pochi passi da loro c'erano tre troll di dimensioni più che rispettabili e di cattivo umore pericolosamente propensi ad assaggiare nani rosolati o anche un pony tanto per cambiare oppure avrebbe dovuto rubare velocemente qualcosa a quel punto uno straordinario scassinatore di primordine avrebbe svuotato le tasche ai troll ne vale quasi sempre la pena se ci riesce portato via il montone dallo spiedo fatto sparire la birra e infine se ne sarebbe andato senza che nessuno si accorgesse di lui altri con maggior senso pratico ma minore orgoglio professionale avrebbero forse ficato un pugnale in ciascuno dei troll prima che si accorgessero di lui dopodiché si sarebbe potuta passare una nottata allegra bilbo lo sapeva aveva letto molte cose utili che personalmente non aveva mai visto o fatto era agitatissimo e nauseato avrebbe desiderato essere lontano mille miglia da lì eppure eppure c'era qualcosa che gli impediva di tornare subito da torino e compagnia a mani vuote così rimase fermo ed esitante nelle tenebre e i vari tipi di furto di cui aveva sentito parlare svuotare le tasche ai troll sembrava di gran lunga il meno difficile così alla fine strisciò dietro un albero proprio alle spalle di guglielmo berto e maso si diressero verso il barile guglielmo stava scolando un altro boccale e allora bilbo raccolse tutto il suo coraggio e mese la manina dentro l'enorme tasca di guglielmo c'era dentro un borsellino grande quanto una borsa per bilbo eccoci qua pensò appassionandosi al suo nuovo lavoro mentre estraeva con somma cautela il borsellino questo sì che è un buon inizio proprio dei borsellini dei troll non ci si deve mai fidare e questo non faceva eccezione ehi tu chi sei squittì mentre usciva dalla tasca e guglielmo si girò immediatamente e acchiappò bilbo per il collo prima che potesse acquattarsi dietro l'albero e mi caschino gli occhi in mano berto guarda cosa ha beccato disse guglielmo cos'è chiesero gli altri avvicinandosi a lui accipicchia cosa sei bilbo beckins uno scas e un hobbit disse il povero bilbo tremando da capo a piedi e domandandosi come fare il verso del gufo prima che lo strozzassero uno scasso hobbit dissero quelli un po perplessi troll sono lenti di comprendonio e incredibilmente sospettosi nei confronti di qualsiasi cosa che per loro sappia di nuovo e comunque cosa da spartire uno scassobbit con le mie tasche disse guglielmo e si possono cucinare disse maso ci si può provare disse berto prendendo uno spiedo non ti riempirebbe neanche la bocca disse guglielmo che aveva già fatto un'ottima cena una volta spellato e distossato ma forse ce n'è qualcun altro qui attorno abbastanza per farne uno spezzatino disse berto ehi tu coniglio schifoso c'è qualche altro spione del tuo tipo che striscia qui in questi boschi disse guardando i piedi pelosi dell'hobbit poi lo tirò su per le dita dei piedi e lo scosse sì tanti disse bilbo prima di ricordarsi di non tradire i suoi amici no 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 proprio nessuno neanche uno disse subito dopo che vuoi dire disse berto tenendolo sollevato questa volta per i capelli e quello che dico disse bilbo boccheggiando e per piacere non cuocetemi buonsignori io stesso sono un buon cuoco più buono a cucinare di quanto lo sia a essere cucinato non so se mi spiego cucinerò benissimo per voi vi farò un'ottima colazione e non solo se non mi mangerete per cena povero rompiscatole se guglielmo che aveva già mangiato a cena tutto quello che poteva ingoiare e inoltre aveva anche bevuto un sacco di birra povero rompiscatole lascialo andare dai non prima che abbiamo chiarito cosa ha voluto intendere con tanti e con proprio nessuno disse berto non voglio mica svegliarmi con la gola tagliata tienigli le dita dei piedi sul fuoco finché non parla no non lo permetto disse guglielmo sono stato io a catturarlo sei un ciccione deficiente guglielmo disse berto come ti ho già detto prima di stasera e tu sei uno zoticone questo nome lo dovevi dire guglielmo disse berto dando un pugno nell'occhio a guglielmo e allora ci fu un fantastico pandemonio bilbo quando berto lo lasciò cadere a terra ebbe ancora abbastanza presenza di spirito da sgattaiolare fuori dai piedi prima che cominciassero ad azzuffarsi come cani e a chiamarsi null'altro a gran voce con ogni sorta di nomi perfettamente veritieri e appropriati presto furono serrati l'uno nelle braccia dell'altro rotolando quasi dentro al fuoco tra pugni e botte mentre masoli bastonava con un ramo per ricondurli alla ragione e questo ovviamente servì solo a farli infuriare per bilbo sarebbe stato il momento giusto per andarsene ma i suoi poveri piedi erano stati quasi stritolati dalla zampaccia di berto lui stesso non aveva più fiato in corpo e la testa gli girava così rimase lì ad ansimare per un po' appena fuori dal cerchio di luce del fuoco proprio nel mezzo della lotta arrivò balin i nani avevano udito dei rumori in lontananza e dopo aver atteso per un po' che bilbo ritornasse o facesse il verso del gufo cominciarono uno a uno a strisciare verso la luce il più silenziosamente possibile vedere balin farsi davanti dove c'era la luce ed emettere un urlo terribile fu per maso un tutt'uno i troll non sopportano nemmeno la vista dei nani non cotti almeno berto e guglielmo smisero immediatamente di lottare presto baso un sacco dissero prima che balin il quale si domandava dove fosse bilbo in tutta quella confusione capisse cosa stava succedendo il sacco gli calò sulla testa e lui fu gettato per terra o mi sbaglio di grosso ne arriveranno altri disse maso tanti e nessuno è proprio vero disse nessuno scassò bit ma tanti di questi nani qui ecco come stanno le cose mi sa che hai ragione fece merto e faremo meglio a toglierci dalla luce e così fecero tenendo in mano i sacchi che usavano per portare via pecore altre prede attesero nelle tenebre man mano che un nano arrivava e guardava sorpreso il fuoco i boccali ricolmi e il montone rosicchiato ta un sacco puzzolente gli piombava sulla testa ed egli era giù per terra presto accanto a balin giacquero dualin fili e chili insieme dorin ori e ori tutti in un mucchio e oin gloin bifur bofur bombur ammucchiati scomodamente accanto al fuoco così imparano disse maso infatti bifur e bombur avevano dato parecchio da fare avevano lottato furiosamente come fanno i nani quando sono messi alle corde torin arrivò per ultimo non fu catturato di sorpresa arrivò aspettandosi guai e non ebbe bisogno di vedere sporgere fuori dai sacchi le gambe dei suoi amici per capire che le cose non andavano affatto bene induggiò fuori dalle tenebre per un po e disse ma che razza di guaglio è questo chi è che ha sbattuto la mia gente di qua e di là i troll disse bilbo da dietro un albero si erano completamente dimenticati di lui sono nascosti in dei cespugli con dei sacchi ah davvero disse torin e balzò in avanti verso il fuoco prima che potessero lanciarsi su di lui raccolse un grosso ramo incendiato a un'estremità e berto si prese quell'estremità nell'occhio prima di potersi scansare questo lo mise fuori combattimento per un po bilbo fece del suo meglio si attaccò alla gamba di maso come meglio poté visto che era solida come un tronco giovane fu spedito a gambe all'aria in cima a qualche cespuglio quando dando un calcio al bastone di maso fece sprezzare le scintille in faccia torin in cambio maso si prese i rami sui denti e perse uno dei denti davanti e questo lo fece urlare ve lo dico io ma in quel momento sopravvenne da dietro guglielmo e gettò il sacco proprio sopra la testa di torin dritto giù fino ai piedi e così la lotta finì adesso erano tutti in un bel imbroglio tutti ben legati nei sacchi con tre troll arrabbiati due con bruciature e colpi di cui ricordarsi seduti accanto a loro che discutevano se dovessero arrostirli lentamente o tritarli finemente e bullirli oppure sedersi semplicemente su di loro e schiacciarli uno a uno riducendoli in gelatina e bilbo su un cespuglio con i vestiti e la pelle laceri non osava muoversi per paura che lo potessero udire fu proprio allora che gandalf tornò ma nessuno lo vide i troll avevano deciso di arrostire subito i nani e di mangiarli più tardi l'idea era di berto ed era stata approvata anche dagli altri dopo un bel po di discussioni è stupido arrostirli subito ci vorrebbe tutta la notte disse una voce berto pensò che fosse quella di guglielmo o ricominciare tutta la discussione da capo guglielmo disse o andrà avanti per tutta la notte e chi discute disse guglielmo pensando che fosse stato berto a parlare tu disse berto sei un bugiardo disse guglielmo e così la discussione ricominciò da capo alla fine decisero di tritarli finemente e bollirli così si munirono di un pentolone nero e iniziarono a tirar fuori i coltelli è stupido bollirli non abbiamo acqua e ci vuole un sacco di tempo per arrivare fino al pozzo disse una voce berto e guglielmo pensarono fosse quella di maso o chiudi il becco dissero o non la finiremo mai e se parli ancora ci puoi andare tu a prenderlo qua ma chiudi il becco te disse maso che pensava che fosse stata la voce di guglielmo chi è che discute a parte te vorrei proprio saperlo sei un tontolone disse guglielmo tontolone tu disse maso e così la discussione ricominciò da capo e si fece più violenta che mai alla fine decisero di sedersi sui sacchi uno dopo l'altro e di schiacciare i nani e di bollirli alla prossima occasione e su chi ci sediamo per primo disse la voce meglio sedersi sull'ultimo arrivato disse berto che aveva avuto l'occhio ammaccato da thorin pensava fosse stato maso a parlare non parlare da solo disse maso ma se ti vuoi sedere sull'ultimo arrivato sieditici qual è quello con i calzini gialli sciocchezze quello con i calzini grigi disse una voce simile a quella di guglielmo sono sicurissimo che il colore era giallo disse berto e giallo era disse guglielmo e allora perché dici che era grigio disse berto non l'ho mai detto l'ha detto maso questo mai disse maso sei stato tu due contro uno perciò chiudi il becco disse berto ma a chi stai parlando disse guglielmo adesso pianta dissero insieme maso e berto la notte sta finendo e l'alba arriva presto finiamola una buona volta e sbrighiamoci l'alba vi prenda tutti e sia di pietra per voi proprio in quel momento la luce apparve sopra la collina e si sentì un forte cinguettio tra i rami guglielmo non parlò più perché rimase fermo mutato in pietra mentre si chinava e berto e maso si immobilizzarono come rocce mentre lo guardavano e sono rimasti lì fino ad oggi grazie